Buongiorno, sono Giulio Ceschin dell'azienda agricola Laviarte, oggi vi parlo di un progetto che è il progetto Schiopettino che nel territorio di Prepotto assieme a un'associazione di produttori stiamo portando avanti, io sono anche il presidente di un'associazione che è l'associazione produttori dello Schiopettino di Prepotto e con questo gruppo stiamo cercando di migliorare la qualità di questo Schiopettino, studiandolo, cercando di fare della comunicazione, di presentarlo, di dargli un valore diverso anche legato al territorio e a questa zona di provenienza che è la Valle dello Iudrio dove abbiamo ottenuto una sottozona di produzione recentemente grazie al nostro lavoro e all'impegno di questo gruppo e naturalmente la valenza di questo nostro lavoro è molto legata all'immagine che può dare soprattutto perché è un vitigno di territorio che ha delle radici profonde nella zona di Prepotto e quindi in questo modo riusciamo a portare all'esterno un messaggio molto forte, molto condiviso da tutti e soprattutto che parla di una zona specifica. Tra le nostre aziende ci sono alcune aziende associate al movimento turismo del vino con il quale collaboriamo con dei progetti che servono proprio a portare persone a conoscere un vino che appartiene a una porzione molto specifica del territorio e che è molto peculiare e ancora poco conosciuta. Grazie a tutti.